Il tatto è il più importante organo di senso per entrare in contatto con il mondo esterno. Ma che cosa significa toccare? Quali sono i veri significati di questo gesto nelle relazioni umane? A queste e tante altre domande risponderà il professor Fabio Gabrielli, filosofo e docente antroposofico, nella prossima puntata di Box Salute in onda venerdì 29 novembre in prima serata. Grazie